Si è svolta in prefettura a Torino la sigla dell'atto di acquisto di alcuni documenti di Casa Cavour, acquisiti anche grazie alle donazioni di 23 partners privati e pubblici, tra cui il Consiglio regionale. Tra questi un taccuino di appunti, lettere e persino i famosi occhiali e il copricapo tondo appartenuti al primo ministro d'Italia.